era il 1955 e martin mcfly tornava al futuro o meglio al passato e più o meno in quel periodo non tutte insieme chiaramente le auto passavano dall'architettura a 6 volt a quella a 12 volt perché è stato un grande cambiamento beh perché in auto sono nate tutta una serie di nuove funzioni che prima non c'erano e oggi nel 2024 forse un po in ritardo rispetto a quanto in teoria si sarebbe dovuto fare arriva tesla cyber track che ridefinisce l'architettura dei veicoli passando appunto alla 48 volt di bordo tutti vi diranno che è enorme tutti vi diranno che è fantastica che ha tre motori sì eccetera eccetera va tutto bene ma secondo me la grande innovazione qui è proprio quella del sistema 48 volt e badate bene avrete già sentito 48 volt nel mondo delle auto ibride o meglio micro ibride beh qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa perché questa è solo elettrica e perché quando citiamo i 48 volt del sistema quindi la tensione del sistema parliamo della tensione del sistema che gestisce tutte le parti all'interno e alcune all'esterno della vettura ma non la trazione quindi quella che va a gestire il computer di bordo che va a gestire l'elettronica che va a gestire il motorino per quell'enorme tergicristallo che sembra l'asta di una bandiera e che effettivamente doveva essere così viste le dimensioni di questo track tutto questo ci consente non solo di avere una maggiore tensione e quindi andare a parità per esempio di motorino del tergicristallo rispetto a quello della model y di gestire un'asta quindi una leva molto più grande molto più pesante questa qui ma allo stesso tempo noi riusciamo ad avere anche alcune caratteristiche di efficienza totale del sistema di risparmio di peso perché se considerate la formula che vi dà la potenza uguale corrente per tensione se noi andiamo ad aumentare la tensione a parità di corrente abbiamo una potenza maggiore e soprattutto i cavi necessiteranno di una sezione inferiore provate andare in un qualsiasi negozio di attrezzatura o comunque di elettronica prendete un cavo e guardate quanto vi costa quello che regge una corrente maggiore e quanto vi costa quello che regge una corrente minore e soprattutto quanto pesano in mano c'è una bella differenza io ho fatto acquisti di recente per la casa per cablare il giardino ed effettivamente i costi sono importanti anche per i semplici cavi tutto questo poi si ripercuote con vantaggi inevitabili anche nella gestione della vettura stessa e non parlo dell'elettronica non parlo delle figate che vedete sugli schermi ma parlo della guidabilità e delle caratteristiche tecniche perché questo cyber track va praticamente a rinunciare alla struttura tradizionale per quanto riguarda lo sterzo infatti qui non c'è più il collegamento fisico tra il volante e poi effettivamente quello che va a sterzare le ruote ma c'è un sistema steer by wire che significa che il volante ha come se avesse uno di quei motorini che magari avete provato nei volanti dei videogiochi che ci dà un feedback un ritorno di forza essendo proprio un motorino elettrico a cosa serve beh in teoria niente cioè serve a dare a noi un feedback molto simile a quello a cui siamo abituati il vero lavoro lo fanno due motori elettrici perché deve esserci appunto la ridondanza non essendo più un sistema meccanico quando uno fallisce ci pensa l'altro che sono posizionati qua sotto e che quindi ricevono i segnali tramite un nuovo sistema un'architettura che va a sostituire il vecchio canvas e fondamentalmente usa una doppia ethernet anche qui due perché c'è la ridondanza se un cavo dovesse fallire l'altro va a intervenire in un loop che poi va a controllare tutte le funzioni dell'auto ed è proprio questa caratteristica che consente con uno sforzo e un angolo volante completamente diverso rispetto ai vari giri che siamo abituati sulle vetture tradizionali di effettivamente avere la massima capacità di sterzo capacità che poi viene ulteriormente incrementata grazie a un'altra caratteristica non è nuova non l'ha inventata il cyber track ma è l'asse posteriore sterzante che permette ad un passo così lungo guardate quanto devo muovermi per raggiungere le due ruote di accorciarsi virtualmente ve l'ho già spiegato in altri video praticamente nelle piccole manovre cittadine il posteriore sterzando in controfase rispetto all'anteriore è come se effettivamente accorciasse il passo e quindi la rende molto più agile molto più maneggevole al pari di una berlina di taglia media mentre ve lo faccio vedere ancora un po per inquadrarlo tutto devo essere veramente lontano rispetto all'auto vi racconto un po le sue caratteristiche della scheda tecnica 5,68 metri di lunghezza è largo tra i 2,2 e i 2,41 a seconda che contiate o no i retrovisori ed è alto 1,79 con un'altezza da terra che grazie a un'altra caratteristica interessante ovvero le sospensioni pneumatiche adattive può arrivare fino ad una luce di ben 40 centimetri 406 millimetre uno dei motivi è chiaramente il fatto che questa è un'auto che deve anche andare in fuoristrada ok auto elettriche fuoristrada quindi vuol dire sassi quindi vuol dire guadi quindi vuol dire acqua rischi no in realtà abbiamo già visto che le auto elettriche con l'acqua non hanno particolari problemi perché ci sono tutta una serie di accorgimenti ma qui c'è un ulteriore passaggio in più infatti se voi andaste ad aprire il pacco batterie vedreste che le celle sono le 4680 quindi sono quei cilindretti immaginatevi tanti cilindretti posati su un vassoio e collegati fra di loro in serie in parallelo ora vi dirò la differenza e vi spiegherò perché comunque tutti questi cilindretti hanno in realtà un gap rispetto all'altro vassoio che chiude questo pacco batterie ed è proprio quel gap di circa 3 centimetri che è un'ulteriore misura protettiva del sottoscocca infatti qualora voi doveste andare su una roccia o su un tronco di albero che sono particolarmente tosti e quindi potrebbero in un caso molto raro andare a indentare un pochino quel vassoio che già di suo ha un'ottima resistenza comunque all'interno del pacco batterie ci sarebbe quell'agio quella luce di 3 centimetri che se considerate 3 centimetri di là e 40 per l'altezza da terra avete veramente davvero tanto spazio che va ad evitare che comunque l'ostacolo possa in qualche modo andare a toccare le celle e sempre in tema di sicurezza e soprattutto di innovazione perché questa è un'auto esagerata sì ma in realtà anche per tesla fa da porta bandiera di una serie di innovazioni per le auto elettriche che secondo me vedremo presto comunque nei prossimi anni in tema di sicurezza tutto il pacco batteria è fatto innanzitutto per avere sulla parte laterale delle sezioni anti intrusione è come se ci fosse un gap prima di arrivare effettivamente alle celle deformabile che rispetto alla model y va a cambiare la model y quel gap lo riempiva con una specie di materiale di cui non saprei definire comunque deformabile anch'esso qui invece quel materiale quel gap non è riempito perché comunque la struttura riesce in quell'aria tra virgolette ad andare ad assorbire l'urto oltre a questo c'è anche tutto un sistema che va a mitigare le conseguenze di un già rarissimo thermal runaway le celle sono già monitorate a cluster come se fossero dei moduli ma qui non si parla di moduli tradizionali dopo vi spiegherò perché comunque se nell'eventualità dovesse succedere qualcosa c'è un sistema che va a ventilare va diciamo a dare sfogo ai gas che si generano in queste situazioni così da ridurre ulteriormente il rischio di danni gravi questo sistema sfrutta ed è una piccola cosa ma molto interessante che ho visto durante un unboxing chiamiamolo così un tear down di questo cyber track è una membrana che solitamente serve a compensare la differenza di pressione e quindi va eventualmente a buttare fuori un po di quell'umidità che si potrebbe generare all'interno di un pacco che comunque è sigillato quando però dovesse accadere un thermal runaway a quel punto saltano due blocchi e questa membrana da un bocchetto si trasforma in uno sfogo molto più ampio cosa che permette di far uscire i gas che si generano durante queste situazioni e quindi rende ulteriormente ancora più sicuro specie se consideriamo che questo evento di cui vi sto parlando è comunque una cosa molto rara nel mondo delle auto elettriche a questo punto chiudiamo l'inciso e torniamo sulle caratteristiche l'autonomia di questo bestione con i cerchi da 20 pollici è prevista di 515 chilometri con la possibilità di superare i 700 chilometri tramite il range extender non è un motore è un ulteriore pacco batteria che voi potete posizionare nella zona del cassone posteriore cassone posteriore che vi faccio vedere subito è questo qua chiaramente abbiamo l'acciaio inox su tutta la parte della carrozzeria si apre con un tasto poi lo dovete chiudere manualmente e immaginatevi un letto che è proprio la batteria aggiuntiva che va a ridurci leggermente lo spazio all'interno qui ci sono le prese cosa che ci permette di avere fino ai 240 volt oltre alla 120 volt di potenza in uscita di tensione scusate in uscita mentre per chiuderlo è l'unica cosa che fate manualmente lo dovete fare così e esiste la copertura estraibile e ritraibile vedete che in pochissimi secondi lui va a creare questa copertura che tra l'altro viene data anche per impermeabile quindi non dovete preoccuparvi di niente di infiltrazioni d'acqua all'interno del vostro letto lo chiamano cyber beast per un motivo esiste una versione con due motori sempre trazione integrale ma questa ne integra addirittura tre e questo ci consente di avere un'accelerazione da 0 a 100 di soli 2,6 secondi con una velocità massima che arriva ai 209 chilometri orari quanto pesa tutto ciò sono 3104 chilogrammi il motivo è anche la scelta di ottimizzare tutta una serie di caratteristiche fino ai più piccoli dettagli incluso appunto il peso dei cavi di cui vi parlavo la ricarica in corrente continua è fino a 250 kilowatt qui si utilizza un sistema a 800 volt perché le celle sono configurate con un piccolo blocco di celle che vanno in parallelo e poi queste celle vanno anche in serie con gli altri blocchi per creare così un totale di 800 volt che non è mai 800 fisso ma per convenzione diciamo 800 volt è un range che solitamente va dai 600 650 fino ai 900 a seconda poi di quello che l'auto effettivamente ha bisogno e della potenza che deve tirarsi fuori capacità di traino incredibile siamo a 4.990 chilogrammi garanzia 4 anni 80.000 chilometri sull'auto mentre la batteria ci propone batteria ma anche il propulsore elettrico 8 anni o 240.000 chilometri torno qua dietro per raccontarvi un'altra delle caratteristiche ovvero la predisposizione di quest'auto anzi la compatibilità perché in america già si può fare con il vehicle to load e il vehicle to home significa che cyber track diventa una colonnina tutti gli effetti per le auto elettriche perché in uscita ci dà fino a 11,5 kilowatt di potenza mentre quando noi lo colleghiamo con il kit si chiama power share mobile connector quello per alimentare qualsiasi cosa abbiamo una potenza leggermente ridotta a 9,6 kilowatt una curiosità di questo pianale che lui fino a 136 chili di peso li regge tranquillamente quindi se non siete troppo pesanti potete in teoria camminarci sopra e ora vi porto all'interno perché ci sono anche qui tante cose interessanti parto dal posteriore l'apertura è tramite questi tasti che portano un po' fuori la portiera una portiera bella massiccia qui vi faccio vedere il profilo dei vetri che sono anch'essi frameless e sul posteriore abbiamo uno dei due schermi quello da più o meno 10 pollici che ci permette di controllare tutta una serie di cose che effettivamente potremmo fare anche con l'anteriore qua invece i sedili omologato per 5 in realtà possono creare una zona di carico che non sarebbe prevista ma noi andando a chiuderli tra virgolette o comunque tirarli su creiamo un fondo piatto e soprattutto una zona di carico tesla dice magari ci portate il cane e lo fate pascolare agevolmente all'interno con la seduta che invece va a battere contro lo schienale ed eccoci all'interno dell'abitacolo intanto qui c'è un battitacco che sicuramente richiama lo stile cyberpunk del lettering che tesla ha creato per questo cyber track queste sono le portiere anteriori questi sono i vetri vi faccio vedere nel profilo ora entro nell'abitacolo con che mi ripropone lo stesso minimalismo che è presente su tutte le tesla bella questa soluzione che ci permette comunque di avere una aletta parasole che può essere regolata e che quindi va a cambiare nelle dimensioni a seconda delle nostre necessità perché e ora giro la telecamera c'è anche un tetto in vetro enorme e quindi deve riuscire a coprire parte di questo tetto in vetro lo schermo principale ripropone le ultime novità dell'interfaccia di tesla le stesse che stanno arrivando in tutte le auto della gamma dal punto di vista del software loro non importa quanto siano vecchie le auto se l'hardware regge il nuovo software ve lo troverete tranquillamente ovviamente qui ci sono alcune caratteristiche esclusive di questa vettura vettura che per esempio avendo un setup regolabile per le sospensioni ci permette di appunto cambiare l'altezza da terra non insisto troppo su questa parte comunque nel frattempo mentre lui sta alzandosi vi faccio vedere in breve il menu con le solite modalità di guida la possibilità di gestire in modo intelligente il nostro carico la gestione della parte di ricarica la gestione delle porte perché ce ne sono diverse per andare a collegare qualsiasi dispositivo oppure per andare a collegare delle mod l'autopilot che chiaramente raggiunge il massimo di quello che tesla ha sviluppato finora che purtroppo in europa non è ancora così disponibile o meglio in america può fare cose che l'europa ancora si sogna per questioni normative e tutta la parte di adas di videocamere eccetera eccetera inclusa poi l'aggiornamento software che come al solito è over the air vedete anche qui la parte del cassettino che ci permette di avere un vano di carico con questo pozzetto che poi diventa molto più profondo lo faccio vedere qua e tutto il resto è nella massima semplicità e libertà il che significa che qui non avete un tunnel avete semplicemente spazio se volete metterci una borsa questo è il volante che abbiamo visto quindi quello tagliato e che soprattutto va a ora non posso farlo però va a ridurre i movimenti proprio grazie a quel sistema di steer by wire torno qui per farvi vedere le videocamere che ci consentono di accedere alle diverse viste ce n'è una frontale poi ci sono le due laterali e poi c'è quella posteriore tutto questo con una modalità che poi è adattiva a seconda della situazione questo attiva il lavaggio per la videocamera quindi va a pulire la lente che poi copre il sensore vi faccio vedere anche che il menu principale ripropone il cambio quindi quello completamente touch non andate più a utilizzare la leva al volante che anche qui come nelle ultime model y nel model 3 è andata a sparire ed è soprattutto adattivo nel senso che in molte circostanze riconoscerà automaticamente se serve fare una retro o no e ve la attiverà senza che voi andiate a spippolare sul sistema con la parte della climatizzazione ritroviamo praticamente le bocchette virtuali mentre tutte le altre funzioni sono quelle a cui tesla ci ha abituato quindi spotify quindi la connettività il theater con netflix eccetera eccetera insomma di questo comunque avete già visto anche su altri modelli giusto due informazioni sulla parte di climatizzazione che ci permette anche di andare a riscaldare il volante e i sedili e sulla parte di led che sono configurabili come abbiamo visto appunto sulle altre novità all'interno della gamma sedili regolabili elettricamente li vedete qui sono dei sedili abbastanza avvolgenti devo dire che i fianchetti non sono scedevoli come le prime tesla ma questi sono effettivamente dei fianchetti che al primo contatto danno una buona idea di sostegno soprattutto lo danno anche qui nella parte bassa e cosa non scontate soprattutto da sottolineare con un tasto si va ad aprire il front trunk che va a gestire fino se non ricordo male 200 kg ma so anche di motori poi trovate tutte le altre informazioni e che qui è completamente automatico quindi ci permette di avere questi dei pistocini che vanno poi a lavorare tramite dei motori e quindi non obbligano a tirare su un pezzo che essendo in acciaio inox è sicuramente abbastanza pesante ci sarebbero poi un sacco di altre cose da dire ma magari le vedremo più avanti soprattutto se andiamo a se non ci fermiamo alla parte esterna ma andiamo a vedere cosa cambia all'interno sotto la scocca alcune di queste cose ve lo raccontate quelle secondo me più importanti sono come è fatta la batteria e il sistema 48 volt ma ci sono poi altre novità che sicuramente in parte stanno anche iniziando a diffondersi anche sui concorrenti come l'alta risoluzione del display come la connettività onnipresente che va a gestire tutti gli aspetti del dispositivo e soprattutto quella cui siamo già stati abituati come un'auto pensata con il software come principale elemento a cui fare attenzione possa cambiare nel corso del tempo e ve l'ho raccontato anche con la mia model 3 l'ho comprata in un modo e ora fa tutta una serie di cose che prima per esempio non faceva con questa vista che vi fa vedere quanto è piccola la mia faccia nei confronti di questo cerchio soprattutto questi pneumatici vi saluto e vi ricordo che su hdmotori.it trovate tutte le altre informazioni e speriamo di poterlo vedere il più presto possibile in europa al momento non ci sono informazioni sulla commercializzazione perché questo è un primo tour diciamo per i clienti essendoci anche in europa clienti che l'hanno già prenotata per poterla vedere un pochino più da vicino non ci sono neanche informazioni sull'omologazione quindi per quello dovremo attendere però per tutto il resto spero che questo breve tour vi abbia messo un pochino l'acquolina in bocca ci vediamo alla prossima ciao ciao